salve ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di poca non platino siamo qui a rupepoli nel covo del team galassia per affrontare di nuovo cyrus questa sarà la nostra seconda battaglia contro di lui e poi ce ne sarà una terza nel mondo distorto inizia la battaglia andrei in campo snizzle al 44 e ho torcia snizzle usa stridioma fallisce e usa lanciafiamme ma mandiamo capo tarciasa 45 adesso manterrà in campo crobat solo lanciafiamme e crobat si brucia usa ricarica totale e uso scala roccia uso di nuovo il rasoio cimandacappotorcia montovolt e uso fulmine ma crobat dato che è più veloce mi usa veleno denti mandiamo capo anche crobat mandiamo capo anche crobat adesso manterrà in campo hanskru sarà il suo povero più forte a livello 46 e mandi in campo abamosnove grazie alla sua abilità scendineve provoca una grandinata adesso usa geloscheggia tutto colpo adesso si ricarica con pacca cedro saper fob ecco ce lo manda capo mando volte e uso fulmine e lo mandiamo capo e lo mandiamo capo volta sarà il 41 abbiamo abbattuto così l'abbiamo abbattuto così adesso ci regalerà la master ball e adesso se ne andrà adesso ragazzi taglio e ci vediamo la parte in cui dobbiamo liberare i tre guardiani leggendari eccoci ragazzi eccoci ragazzi affrontiamo l'altro generale del team galassia saturno inizia la battaglia avrà tre pokemon manterei in campo goldbat io cambio e metto torcia e volt scusatemi usa erasorio ma non è molto efficace se a stor di raggio ci confonde volt si colpisce da solo adesso usa avvelenodenti ci avvelena si colpisce nuovamente da solo adesso adesso usa una ricarica totale usa di nuovo velenodenti e mi di nuovo avvelena volt uso fulmine e per poco non lo mandiamo K adesso usa di nuovo velenodenti uso fulmine e lo mandiamo K uso fulmine e lo mandiamo K adesso manterrà in campo bronzer e lo mandiamo K 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 super efficace adesso con bacca a cedro si ristabilisce la salute uso a breccia adesso uso di nuovo a breccia uso a pantano bomba e lo manchiamo a po' abbiamo battuto così anche saturno bene ragazzi la parte finisce qui spero che il video vi sia piaciuto commentate e iscrivetevi qui è Rafox24 vi saluto